ciao fregoline nuovo video siamo ritornati a grattare i grattevinci però questa volta ho fatto una pazzia che non l'ho mai fatta cioè ve lo dico già ho speso 20 euro che non l'ho mai fatto sui grattevinci mai ho voluto provare per la prima volta a spendere 20 euro per prendere 10 grattevinci allora uno è questo e poi ce ne sono altri che sono questi qua adesso li faccio vedere sono 10 grattevinci di 10 per che è quello che forse mi porterà forse un po' di fortuna ne ho presi 10 sono quelli da 2 euro non volevo spendere di più ho detto meglio prendere quelli da 2 euro che spendere 10 euro 20 euro solo in uno è più bello sinceramente per cui divido il video perché sennò questo video dura troppo e non voglio farlo durare tanto per cui i 5 grattevinci li vedete nell'altro video che uscirà a fine febbraio invece questi li grattiamo adesso che sono 5 grattevinci da 2 euro ho notato che c'era anche 100 per 5 per e poi non mi ricordo che però costavano 5 euro 20 euro non mi ricordo però su quella cifra ma dato che dove vado io non c'era allora ho preso solo questi qua che forse è il grattevinci che mi porta più fortuna per cui però prima di iniziare iscrivetevi al canale così attivate la campanellina per non perderne anche un solo video seguirmi su instagram se per caso vinco e non registro almeno sapete se ho vinto se ho vinto qualcosa tramite instagram oppure no e un commentino qua sotto e un like detto questo iniziamo a grattare uno per uno tutti questi 5 grattevinci e speriamo che i 20 euro portano fortuna di recuperare o 20 euro che ho perso o almeno qualcosina speriamo iniziamo spero che questa volta sia la volta buona perché questa è una pazzia che non ho mai fatto in tutta la mia vita iniziamo iniziamo col primo speriamo in bene di non aver perso 20 euro allora 32 18 30 e 15 questi sono i numeri adesso mi avvicino un po se non lo vedete ok questi sono i numeri che dovrei trovare dovrei trovare 37 non ce l'abbiamo iniziamo bene 23 non ce l'abbiamo 45 45 non ce l'abbiamo spero che si vede 44 niente e 16 16 cavolo abbiamo il 15 se no un bel 100 euro non sarebbe male poi 24 niente 13 no 42 41 e per finire il 38 ovviamente sono numeri alti e sinceramente anche la cifra secondo me è alta per cui sarà un po' difficile ma niente questo è il primo andato e non abbiamo metto niente passiamo passiamo all'altro allora facciamo incontrare ho grattò quali sotto e poi vediamo se ci sono abbiamo un 13 un 17 un 34 un 25 un 37 un 37 un 37 un 32 un 39 un 15 un 42 un 40 un 42 un 41 però posso dire che sono praticamente tutti i numeri uguali che trovi anche nell'altro c'è non è possibile a parte che la cifra anche qua è un po' altra ma forse tra i 25 euro ci può stare proviamo primo 32 qua però abbiamo vinto 2 tempo vediamo se riusciamo a trovare un altro 19 c'è il 17 il 16 c'è il 17 e per finire il 30 per cui abbiamo vinto 2 euro 2 euro abbiamo vinto vabbè dai speriamo di recuperare un bel po questo è il primo vincente passiamo all'altro allora io direi di andare più veloce perché sennò poi il video dura un po troppo per cui drattiamo abbiamo un 30 un 38 un 39 e il 12 sembra che non hanno posto per cui 13 abbiamo il 12 11 neanche 41 non ce l'abbiamo 44 neanche e abbiamo un 30 per cui abbiamo vinto altri due euro ok per cui abbiamo recuperato 4 euro per il momento abbiamo il secondo vincente passiamo all'altro 19 22 27 e 35 proviamo 38 44 c'è sempre 40 44 46 20 poi abbiamo il 32 se volete potete giocare all'otto poi per il momento per il momento non abbiamo vinto niente ancora questo 41 24 ma abbiamo il 22 o il 27 42 c'è ancora 29 abbiamo il 19 il 27 e l'ultimo che è il 39 e neanche questa questa è perdente almeno controlliamo bene sì questo è perdente l'ultimo vediamo se porta fortuna allora qui abbiamo abbiamo un 13 un 12 un 46 un 44 se non esce il 44 un 46 che è uscito prima ma vado a pigliare vado a pigliare abbiamo un 38 iniziamo male 26 non c'è 11 c'è il 12 19 non poteva uscire prima 23 no 23 niente 40 c'è il 46 e il 44 non è possibile 20 45 non ci credo c'è il 46 non sarebbero male 10 mila 30 neanche e per finire abbiamo un 37 e direi che questa volta è perdente però se invece del 46 c'era il 45 non c'è 10 mila secondo me erano ottimi soldi ma vabbè questo è l'ultimo che è perdente ok allora abbiamo tre perdenti e due vincenti cioè vuol dire che ho vinto 4 euro vabbè pensavo di più però ho capito che non spenderò più 20 euro perché 20 euro sono 20 euro allora ovviamente prenderò altre gratte vinci però voi li vedete poi all'inizio di marzo o forse lo metterò su instagram non lo so forse potrei mettere su instagram se vinco oppure no vediamo per cui se non mi seguite su instagram seguitemi su instagram potrei anche lì grattare e metterlo su instagram ok allora ricoprerò poi gli altri gratte vinci vedrò se però quasi quasi cambio non prendo sempre lo stesso ne prenderò altri per cui adesso vediamo quale quali ci sono prenderò quelli di 4 euro vediamo se volete vedere ovviamente gli altri gratte vinci che devo ancora grattare a fine mese di febbraio mi raccomando iscrivetevi al canale così almeno vedete se almeno gli altri 5 gratte vinci forse portano fortuna non lo so ok per cui questo gli ho fatto vedere che non ho recuperato così tanto ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su instagram io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto e io così così perché non ho vinto così tanto e ho speso un po' troppo comunque ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.